Con chi ha fatto ritirare, secondo lei, se lo può dire? Perché chiaramente non voglio forzare. Che idea si è fatto? Chi l'ha fatto ritirare poi alla fine? È durato 24 ore? Sì, molto meno di 24 ore. Il rapporto è stato ritirato il 14 maggio alle 12.46. Ho controllato prima, per essere sicuro. E ho chiesto io che venisse ritirato per una correzione sulla cronologia dello sviluppo della pandemia in Cina, in quanto avevo ricevuto delle sollecitazioni, se vogliamo chiamarle così, questa storia piena di sollecitazioni, da Pechino direttamente. E l'errore, se vogliamo chiamarlo così, che non era neanche un errore, viene corretto nel giro di un paio d'ore e doveva essere subito rimesso online il rapporto. Nel frattempo, alle ore 13, quindi 14 minuti dopo ritiro, mi arriva una mail che toglie a me la facoltà di rimettere online il rapporto, perché ero io la persona che poteva decidere se poteva andare online o meno, dato che era approvato già da tutti, questo è importante dirlo. E viene detto che può decidere di rimetterlo online soltanto il direttore regionale per l'Europa, perché, c'era scritto, vanno sistemate un paio di cose. Lei dice una cosa? Evidentemente il paio di cose sono le cose che sono emerse in questi giorni dalle chat che sono dei fatti. Io all'epoca ovviamente non lo sapevo. Certo, grazie al procuratore, grazie a quello che si sta facendo a Bergamo, iniziamo a capire tante cose. Lei ha scritto, sta per uscire un libro per Feltrinelli, che ha un titolo simbolico, il pesce piccolo. Intorno a lei ci sono solo squali? Sì, diciamo che si sono rivelati tanti pesci grossi, anche ci si muove in acque piuttosto pericolose, però il pesce piccolo riesce anche a togliersi dalle situazioni difficili più facilmente di un pesce grosso. Ho scelto questo titolo anche perché pensavo al pesce nella boccettina di vetro, che è quello che prendiamo alle sagre. Questa era un po' la sensazione che io avevo, di essere in questa bolla di vetro di assoluta incommunicabilità della storia all'interno dell'OMS, e questa è la cosa più grave. Perché di quello che succede in Italia è un conto, ed è un discorso, è sicuramente importante, adesso sta anche prendendo una piega un po' politica, ma per me la discussione, e il motivo per cui ho scritto questo libro, è che l'OMS va ristrutturata, così come adesso non sta tutelando la salute dei cittadini. Quindi io la vedo come una prospettiva un po' più ampia, internazionale... La fermo Zambon, la fermo Zambon!